Musica Venerdì 6 ottobre, buongiorno a tutti voi e bentrovati con la nostra rassegna stampa. In apertura parliamo di scuola, nello specifico di precariato, tagli e perdite di alunni. La FLCCGL disegna un quadro desolante in Abruzzo. Sentiamo Valentina Ciarlante. Precariato in Abruzzo riguarda il 20% del totale degli insegnanti e ancora tagli al personale ATA e tanti studenti in meno. 1.400 rispetto allo scorso anno, 18.000 se si guarda la stagione 2009-2010. Queste le principali criticità del mondo della scuola rilevate dalla FLCCGL quando sono trascorse tre settimane dall'avvio del nuovo anno didattico, momento in cui si guarda in prospettiva alla scuola che sarà. Gli istituti sono stati riaperti grazie al grande impegno dei lavoratori. Ha esordito Augusta Marconi nell'assemblea sindacale svoltasi all'istituto tecnico Tito Acerbo di Pescara. Con lei i segretari nazionali Alessandro Rapezzi e interregionale per Abruzzo e Molise, Pino Lafratta. La situazione è drammatica per la FLCCGL e l'autonomia differenziata rischia di produrre altri danni. La divisione delle risorse fra regioni stratificheranno le differenze e quindi come vediamo attraverso il decreto sul dimensionamento abbiamo una riduzione delle risorse che rafforza le disuguaglianze presenti nel paese. Quindi noi dobbiamo assolutamente bloccare questo disegno, ripristinare parità di risorse e opportunità fra tutti gli studenti del paese e poi dopo, una volta stabilito una base di opportunità uguali per tutte, stabilire come ogni territorio possa rafforzare le proprie specificità. La Fratta lancia un hashtag ai governi regionale e nazionale. Quando si perdono gli alunni vuol dire che le aree interne per esempio si stanno spopolando, quando si perdono gli alunni vuol dire che manca il lavoro e le persone se ne vanno e se ne vanno quando manca anche la scuola, manca il servizio. Quindi per rispondere a questa tematica non possiamo assecondare la dinamica dei tagli, dobbiamo intervenire con degli investimenti, stabilizzare i tanti precari. A proposito dei numeri, 6.500 precari nella scuola abruzzese, oltre 3.000 sul sostegno, sono numeri impietosi che necessitano di azioni, azioni da parte del governo nazionale e anche un supporto del governo regionale. Il presidente della giunta regionale del Molise, Francesco Roberti, e gli assessori Gianluca Cefaratti, Andrea Dilucente e Michele Marone hanno incontrato a Roma il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, in un confronto che ha visto la partecipazione del capo di gabinetto Stefano Varone, del ragioniere generale dello Stato Viaggio Mazzotta e della dirigente del MEF Angela Adduce, componente del tavolo tecnico ministeriale sul rientro del debito della sanità. Un summit durato oltre un'ora durante il quale sono state concordate le iniziative necessarie per l'uscita della regione molise dal debito strutturale, rispetto al cui obiettivo arriverà dal governo un aiuto concreto. Non possiamo che ritenerci soddisfatti il commento del presidente del Molise, Francesco Roberti. Ed ora una notizia di sport. Il Pescara vince anche in Coppa Italia e nella prossima partita, a novembre, affronterà i cugini del Pineto. 6-1 alla Fermana nel primo turno del trofeo allo stadio adriatico Cornacchia. Sono gli ospiti ad aprire le marcature al ventunesimo con Fontana, per lui un calcio piazzato dalla distanza che beffa il portiere di casa. Un minuto dopo il pareggio del Pescara, numero di Manu che di sinistro segna l'1-1. Al trentottesimo il Pescara raddoppia Cangiano in sacca, una punizione dal limite. Siamo nella ripresa, venticinquesimo minuto, la coppia ad oro Cangiano-Manu confeziona il 3-1. Cross e colpo di testa. Al settantesimo Manu ancora protagonista, si disfa dell'avversario e lascia la gloria del gol a Tommasini. 4-1 Pescara. Al settantanovesimo ci pensa a Cornero a mettere una firma ulteriore sulla partita con un pregevole gol. Dalla distanza, un minuto dopo, rigore per il Pescara a causa di un fallo di mano. Merola trasforma nonostante l'intuizione del portiere. Finisce 6-1 Pescara e domenica prossima si va a Ferrara per affrontare la SPAL in campionato. Ed ora i titoli di oggi. Iniziamo con Primo Piano Molise. Si parla di bilancio, sanità e unilever. Roberti fa leva sul governo. Maratona romana del Presidente. Tavolo al MEF con Giorgetti. Vertice al Ministero della Salute. Confronto al di Castero del Made in Italy. In via 20 Settembre anche Cefaratti di Lucente e Marone. Palazzo Chigi ci aiuterà ad uscire dal debito. E poi muore al Cardarelli. I familiari accusano. Lo hanno trascurato. 74 anni è deceduto ieri. I congiunti non gli sono state prestate le cure necessarie. La replica. Quadro clinico severo. Abbiamo fatto il possibile. Dichiarano dall'ospedale. E poi Rocchetta, benedizione del patriarca Flop. Lo scisma non avviene. E torniamo sul caso dell'omicidio di Romina De Cesare. La consulenza della difesa. Ia Longo, ridotta capacità di intendere. Dentro la notizia. Campobasso, malviventi in azione. Due anziane donne sventano la truffa del pacco. I consigli. E poi Vinchiaturo. La perseguita e le incendi all'auto. Ex violento. Fermato dalla procura. Tra Vasto e San Salvo. Resi noti i dati Ispra. La lupa catturata. E quella che ha terrorizzato e ferito turisti e residenti. E poi il caso. Andiamo a Larino. La fine della favola. Luminari è spente a Natale. L'associazione rinuncia in polemica. Con l'amministrazione locale. Il punto di oggi è a firma del direttore Luca Colella. Si parla di spopolamento. Residenti sempre peggio. Sotto quota 289 mila. E poi lo sport. Campobasso ricamato. Che emozione il primo gol. Ora torniamo a vincere. Termoli giallorossi verso la trasferta di Fano. Capitan sicignano. Obiettivo riscatto. E infine Isernia. Colpo di mercato dei Pentri. In attacco il forte Miguel Miranda Medina. Spostiamoci ora in Abruzzo. Con i titoli del centro. Multe annullate. Il comune fa ricorso. Siamo a Pescara. L'amministrazione impugna la sentenza. Avanti con le sanzioni. Ai semafori. E poi la cronaca tragedia. Nella notte schianto fatale. Muore a 26 anni. Ritornava a casa. Dopo il lavoro. Festa con il ministro per la terapia intensiva pediatrica. Sempre a pescare. Poi misure anticrisi. Pronto il piano per pensioni e famiglie. Con molti figli. Nel taglio basso. Caos in centro. Mi ha rubato la bici. Caccia a ladro in piazza. Bombe in casa. Denunciato un ottantenne. Nell'appartamento in centro dell'anziano. La polizia scopre un arsenale. Cervi. La regione paga i danni. Ente condannato a risarcire 400 mila euro. Un motociclista. L'incidente sulla statale 17. Nell'Aquilano. E poi nel taglio basso. Val Pescara. Incendiato il bosco. Vicino a case. Ferrovia. Le naia di riaprono il 16 ottobre. Ma è scontro. Torniamo nel taglio alto del centro Abruzzo. C'è lo sport. Pescara spettacolo. Sei gol in Coppa. Calcio. I biancazzurri dilagano con la fermana. Sei a uno. Nel prossimo turno derby con il Pineto. Proseguiamo la nostra rassegna stampa. Leggiamo nel dettaglio i titoli del messaggero. Abruzzo muore mentre torna dal lavoro. Alba Adriatica. Leonardo Ricci di 26 anni. Si è schiantato in moto contro un albero. L'incidente quando era ormai vicino casa. Troppi dossi e buche su quella strada. L'Aquila. Raduno. Alpini. Botte in prescrizione. E poi violentata. A 14 anni. L'amico finisce sotto accusa. Siamo a Lanciano. Gli abusi sessuali avvenuti nell'abitazione di conoscenti. Avezzano. Geometra sequestrato. Assoluzione. Lumaca. C'è lo sport in evidenza. Questa mattina con il Pescara. Pescara inarrestabile. La fermana travolta. Sei a uno. Banca Italia spiega in classe economia e finanza. Già 1.500 sono gli iscritti. Pochi lavoratori. L'industriale a caccia di giovani talenti. L'iniziativa saremo, dicono, allenatori delle nuove leve con la formazione continua. Nel taglio alto si torna a parlare della lupa di vasto analisi del DNA. La lupa catturata responsabile delle aggressioni. Demografia spopolamento. La regione va in aiuto a 300 paesi. E poi Pescara. Il ministro Locatelli inaugura la terapia intensiva pediatrica. Bene, lasciamo ora i quotidiani locali. Spostiamoci su quelli nazionali e leggiamo, come sempre, i titoli del Corriere della Sera. C'era la giudice in quel corteo lite toghe politici. La Lega all'attacco, l'Associazione Nazionale Magistrati, dice, è vita privata. La magistrata apostolico del caso Catania, Salvini, posta un video che la ritrae proprio in piazza. E poi c'è l'Ucraina, missile russo sulla veglia funebre, strage di civili. Con oltre 50 morti, Putin ha testato il superrazzo. Taxi. La riforma delle licenze autisti in rivolta. Esciò, opero le misure, i gualtieri, pagano i comuni, carovoli, salta il tetto. E poi la strage del bus, i tecnici del 2017 dissero, il guardrail va cambiato. Lasciamo il Corriere della Sera. Continuiamo la nostra rassegna stampa con i titoli di questa mattina del quotidiano La Repubblica. Il vertice di Granada, in evidenza, armi a Kiev, i dubbi dell'Unione Europea. I partner europei confermano il sostegno, ma ci sono difficoltà legate all'esaurimento delle scorte agli sforzi economici. Appello di Zelensky all'Unione, Putin testa con successo un supermissile nucleare. Strage russa, 51 morti. Il commento. Se Putin vince il conflitto, il retroscena agli arsenali vuoti della Nato. E poi un anno dalla tragedia, viaggio nelle Marche Ferite, dove il tempo e i lavori si sono fermati. Scontro sul video della giudice, Salvini è di estrema sinistra, la magistrata di Catania, in piazza nel 2018. Ed ora i titoli del quotidiano Il Messaggero. Si torna sulla tragedia di Mestre, così è caduto il bus, parla l'autista testimone. Quel pullman mi ha sorpassato, da dietro il mezzo usciva del fumo. Guardrail, lavori in ritardo di quattro anni, soccorritori, sentivamo le urla e i passanti facevano le foto. Taxi, pressing del governo sui comuni, subito le licenze. I sindaci sono però divisi. La sfida del sinodo per restare dentro il mondo moderno. E poi Melonia-Zelensky, siamo con voi. Missile russo a Groza, uccisi 51 civili. E c'è l'allarme obesità, con il caro spesa, più cibo scadente. La Nadef, effetto inflazione sui generi alimentari, meno abbienti rinunciano ai prodotti di qualità. C'è anche lo sport questa mattina sul Messaggero. Lucaco Belotti, la Roma è travolgente. Vediamo ora uno sguardo ai titoli del tempo. Caso Catania, in evidenza, la giudice contestava. Salvini spunta un filmato nel quale Apostolico protestava per far sbarcare i clandestini. ANM non ammette critiche. La vita privata delle toghe non deve interessare. La Lega, italiani preoccupati oggi per il vicepremier a nuova udienza, Open Arms. E poi Schlein verso un altro flop con l'autunno di mobilitazione. Nel taglio basso, Europa con l'Italia, ONG furiose. Sea-Watch critica l'Unione Europea, Melonia-Granata col piano Mattei. Saremo, dice, pionieri. Ed ora un veloce sguardo al Fatto Quotidiano. Chi ha passato a Salvini il video contro la giudice? Si chiede il Fatto Quotidiano. Il giallo, l'uomo con la telecamera in piazza con la polizia. Puzza di dossier. Il ministro sventola i frame su Apostolico a un corteo del 2018. Sul caso Diciotti ci sono schedature. O è tutto casuale? Nel taglio alto, Meloni. La retromarcia su Kiev dalle armi giuste. La gente stufa indietro tutta. Intanto il Nobel Parisi vuole unire i pacifisti. E poi la politica. PD Schlein lancia la piazza dell'11 novembre per le opposizioni. Ci sarà anche Conte. Ed ora i titoli del manifesto. Schlein, governo tecnico, non con noi. Intervista alla segretaria. L'11 novembre saremo in piazza contro la rassegnazione. E poi la crisi dei missili. A Granada, Zelensky chiede nuove forniture di armi, ma l'Europa frena. E dopo il ribaltone al congresso USA sugli aiuti, il grande freddo contagia anche l'Italia. Meloni, il nostro impegno non è illimitato. In Ucraina l'ennesimo attacco russo fa strage di civili. E poi andiamo in Iran. Iran senza velo, armita come Masamini, in coma per le botte. Parlamento dell'Unione Europea è reato sfruttare le madri surrogate. Proseguiamo con i titoli della verità. La giudice pro migranti beccata nella piazza che insulta la polizia. La Lega diffonde un video dell'agosto del 2018. Notizia riportata su tutta la stampa nazionale oggi. Ed oggi c'è l'udienza del processo Open Arms. Landini è il capo del PD corteo sul salario minimo mentre scorda i contratti. E leggiamo in ultimo questa notizia. Ospedale per ospedale, vaccinati inesistenti, ricoverati e morti di Covid, scrive il quotidiano. La verità. Proseguiamo con le notizie economiche del sole 24 ore. Questa mattina si parla di pensioni, allarme spesa. Dal 2030 la Nadef certifica l'aumento delle uscite che nel 2042 arriveranno al 17% del PIL. E poi lo spread sale a 202. I rendimenti dell'Italia corrono più degli altri. Si torna sulla strage di Mestre, la sicurezza, guardrail, non adeguati, titoli ai sole 24 ore o troppo vecchi, a rischio 600.000 chilometri di strade. E concludiamo, come sempre, la nostra rassegna stampa con le notizie sportive. Leggiamo nel dettaglio quelle della Gazzetta dello Sport. Nel taglio alto, il mio toro, un amore di famiglia, Cairo e i suoi 18 anni in Granata. E poi c'è la Juve. La Juve e le trovate per il derby. Vi faccio l'allegrata. Miretti o Ildiz dietro alle punte. Max prova anche la difesa a quattro. Oggi il verdetto per Pogba. L'Europa deve temerci. Ci siamo noi e la Champions. Solo la Spagna meglio dell'Italia. Inter dominante per il gioco, ma tutte possono qualificarsi. E poi l'attacco rosso-nero. Giro un anno in più. Il Milan va a caccia di un altro bomber. Roma e Atalanta avanti tutta Euroleague. Lukaku e Belotti show in presa Gasp. Mentre la Fiorentina pareggia 2 a 2. Bene, con questa notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa. Diamo però prima uno sguardo al palinsesto di questo venerdì. Alle ore 11 zona sport, a seguire ore 13 slow tour Casoli Festival delle Pallotte Cace e Ova. Alle 14 TG News, zona sport 16.15, speciale Bit Milano alle 18.15. Poi non perdete 19.5 Slow Tour Campobasso, il Raduno degli Alpini, il telegiornale delle 19.30. A seguire Paese Mio alle ore 21 Rocca Mandolfi, ore 23, ultima edizione del nostro telegiornale. E poi a seguire 23.30 TG Sport. Ed è tutto per questa edizione. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. Grazie a tutti i nostri programmi.